accende il dibattito sui possibili schieramenti in campo. Trofino una corsa 5 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Sant'Antioco, le cui elezioni si svolgeranno nella primavera prossima. Il sindaco uscente, Mario Corongio, conferma la sua candidatura per il secondo mandato alla guida della città. Dà per certa la sua presenza anche Città Nuova, gruppo politico di centro-destra attualmente all'opposizione, che candida la carica di sindaco Gianni Locci, vecchie conoscenze della politica locale e regionale. In corsa anche due nuovi movimenti politici avvolsi ai partiti, Gentinoa, guidato dal candidato sindaco Alberto Fois, e Sant'Antioco Libera, che si presenta con l'aspirante primo cittadino Roberto Longo. Per entrambi si tratta della prima esperienza politica diretta. Più complessi e articolati i movimenti nell'area di centro-sinistra. PD, Udc e Partito Socialista lavorano per costituire un'alleanza la cui scelta del candidato sindaco passi per le primarie, ma gli ostacoli alla definizione di un accordo sono più di uno. Intanto l'elusione delle primarie è da parte dell'Udc, che propone direttamente Mario Corongio, di cui è espressione, ma sul quale si concentra il no categorico di PD e pare di una parte dello stesso Udc. Va da sé che se a cui deve essere, non sarà Corongio il candidato unitario. C'è poi l'incognita del Partito Socialista, che sarebbe in trattativa anche con Città Nuova, la cui lista potrebbe annoverare due esponenti del PSI. Insomma, di sicuro si presenteranno Città Nuova, Sant'Antio Colibera e Gentinoa. Per il resto i giochi sono ben lungi dall'essere chiusi.